Raffaele Cavaliere, iniziazione alle costellazioni familiari, una chiave per la vita, iniziazione mediterranee. Che cosa sono le costellazioni familiari sistemiche? Esse sono una tecnica per conoscere se stessi attraverso la storia della famiglia, per prendere consapevolezza dell'influenza che il sistema famiglia può avere avuto e avere ancora nelle scelte della propria vita, nei rapporti quotidiani con chi ci sta accanto. Una presa di coscienza profonda che attinge a una memoria collettiva antica, sedimentata attraverso le generazioni, capace di trasformarsi alla luce di quanto già detto in energia di auto-guarigione. La storia familiare è parte del nostro essere, delle nostre origini e del nostro vissuto. Per tutta la vita possiamo lottare contro queste esperienze e questi vissuti, idealizzarli o escluderli, spesso mettendo a repentaglio la nostra gioia di vivere. Ecco quindi che il cuore e la visuale positiva del mondo si restringono, proprio quando avremo bisogno di apertura e forza d'animo per affrontare quelle vere e profonde trasformazioni che sono indispensabili nella vita. Le costellazioni familiari non modificano gli eventi, spesso traumatici, ma aiutano a individuarne e a riconoscere le dinamiche complesse nascoste da preconcetti e pregiudizi, a prendere coscienza e quindi a scioglierle. Si procede lavorando in un sistema con la forza creativa del cuore che riconcilierà in noi tutto ciò che è stato escluso e dimenticato. Solo così il vissuto, divenuto risorsa, sarà utile per noi e per i nostri figli. Grazie a tutti.